Ma no... Fermi tutti! Tutti? Questa è una rapina! Rapina! Tutti contro il muro e mani sulla testa! Mani sulla testa! Sì! Ma no... Veloce, veloce, veloce! Veloce! Ora qui si fa come dico io! Come dico io! Ruberemo le donne e violenteremo gli uomini! Oh, violenteremo le donne? D'acca! Eh, ruberemo gli uomini e violenteremo le donne! Ehi, no! Quello che hai detto è detto!